Ciao, oggi preparerò delle mazzancolle in culla di invidia, un piatto che può andare benissimo come antipasto o come contorno. Adesso andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, per questa ricetta ci servirà 300 g di mazzancolle, 150 g di maionese, un cucchiaio di senape, una costa di sedano, 8-9 foglie di invidia belga e per decorare del prezzemolo e due settine di limone. Dopo aver cotto e fatto raffreddare le mazzancolle, le vado a tagliare a pezzi. Adesso taglio anche il sedano a pezzetti. Grazie a tutti. Adesso vado ad aggiungere il sedano dentro la maionese. Adesso vado ad aggiungere il sedano dentro la maionese. la mazzancolle e la senape. E poi vado a girare tutto. Una volta che abbiamo girato bene, vado a far riposare nel frigorifero per un'ora. Passata un'ora, vado a riempire le foglie. Passata un'ora che via. Passata un'ora. Passata un'ora che brightly è? Passata un'ora. Passato un'ora. Passata un'ora che sia nella maionese. Passat un'ora che maio, la vista nella vita. Per quanto riguarda la maionese, uno è il nostro. Passata un'ora che è il nostro. La maionese, iolti ilegri, è ilegri. Più, è ilegri, è ilegri. Poi, è ilegri, c'è ilegri. Ecco qua le manzancolle pronte! Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se volete ci vediamo al prossimo video, ciao! A presto!